e allargando lo sguardo all'orizzonte dove cielo e mare si congiungono vogliamo affidarti oh Maria i popoli che si affacciano sul Mediterraneo e quelli del mondo intero invocando per tutti sviluppo e pace Benedetto XVI 14 giugno 2008 Santa Maria di Leuca dove si incontrano l'Adriatico e lo Ionio un punto d'incontro che anche in chiave allegorica indica la necessità che questo incontro confluisca in una sintesi in una sintesi che qui è la bellezza la straordinaria bellezza di questo luogo che ci fa toccare con mano come questo ineguagliabile patrimonio ambientale sia veramente un dono che noi italiani dobbiamo saper valorizzare e solo valorizzandolo diventeremo nuovamente una grande nazione vi invito a visitare Santa Maria di Leuca e a contemplare delle bellezze che fin quando gli italiani riusciranno a valorizzare potremo continuare a sperare in un futuro migliore grazie a tutti grazie a tutti